Presidente Di Marco, a distanza di qualche giorno, lei torna a parlare dopo la conferenza stampa del presidente attuale della provincia di Pescara, Zaffiri, che ha definito un collodi, che dice bugie, perché? Intanto mi ha consentito una prateria il presidente Zaffiri, cioè mi ha convocato a parlare di nuovo nella provincia di Pescara, qui nella Sala dei Marmi, dopo otto mesi. Avevo scelto di dargli la possibilità di amministrare in tranquillità, sapendo che era in consiglio provinciale all'opposizione, quindi sapeva anche bene il lavoro che avevo compiuto, anche concertato con l'opposizione. Invece ho dovuto, ahimè, avvertire una difficoltà, sarà dettato dal caldo, dalle difficoltà di questi giorni, e che è quella di dire che il lavoro che si sta per determinare sul territorio è frutto di un lavoro concertato da lui e dal presidente attuale della regione, ma cosa che, insomma, a chi si intende di pubblica amministrazione e chi ha un'opinione adeguata rispetto al lavoro che ci si mette, è chiaro che è un lavoro fatto da noi che abbiamo amministrato precedentemente questa provincia. È stucchevole sapere che si parla di masterplan, ma questo è stato già detto, quando il masterplan è stato contestato al centro-destri in ogni luogo, in ogni giorno, prima della campagna elettorale e dopo la campagna elettorale, oggi si annuncia, dopo le elezioni nei vari comuni, che grazie ai fondi masterplan si risolverà il problema della viabilità. Io non avevo dubbi allora, non ho dubbi oggi, a dire che è grazie a questi fondi che si potrà fare qualcosa di buono nella provincia di Pescara, così come nelle altre tre province, ed è l'unico caso in Italia, tra l'altro, con il presidente D'Alfonso che diede fondi alle province, a differenza di altri presidenti di regione che non hanno scelto invece il sostegno alle province. Ma dico anche ancora che tre appalti dei fondi masterplan sono stati proprio definiti nelle procedure nel tempo della mia presidenza e dico anche a Zaffiri che quando parla di una struttura disorganizzata deve sapere che il primo atto che lui ha potuto fare, cioè la nomina del dirigente tecnico, lo ha potuto fare grazie al bilancio di previsione che io ho approvato nel 2018 e che metteva in evidenza le risorse necessarie per un dirigente tecnico che noi prima non abbiamo avuto per circa un anno.